La Camera di Commercio Treviso-Bellono ha riportato i dati sulla demografia d'impresa relativi al secondo trimestre dell'anno in corso. Se nel Trevigiano le imprese continuano a crescere, anche se con un ritmo più lento rispetto al 2022, il bellunese invece ha subito una variazione negativa, con meno 63 sedi d'impresa a fronte però di una crescita di 79 unità locali nello stesso periodo. Il commercio al dettaglio ha registrato una perdita di meno 60 sedi rispetto allo scorso anno, ma anche il settore della ristorazione ha visto una flessione negativa di 12 unità. Il manifatturiero ha perso 16 sedi, in particolare nel settore dell'occhialeria e del legno arredo. Le sedi d'impresa nell'agricoltura hanno subito una perdita di 6 unità. Sono cresciute invece l'area edile, con 8 unità in più, e le attività professionali, scientifiche e tecniche, con un più 13. Al 30 giugno 2023 le sedi di imprese attive in provincia di Belluno sono 13.730, a cui si aggiungono 4.596 unità locali dipendenti. L'insieme delle imprese artigiane è composto da 4.617 unità, più 22 rispetto a marzo 2023. In riferimento appunto alla crescita delle unità locali dipendenti, sono interessanti alcune differenze tra le due province per quanto riguarda agricoltura e manifatturiero. A Treviso prevalgono nettamente le filiali collegate a sedi nella stessa provincia. A Belluno invece il 59% delle filiali stesse in agricoltura dipende da imprese bellunesi, mentre un 26% risulta collegata a imprese situate in altre province venete, cui si aggiunge un 15% di filiali con sede in altre regioni italiane. Analoga anche la situazione per il settore manifatturiero. Grazie. Grazie.